La voce che faceva che male ai muri, era proprio la vera voce dell'olte d'occo. Ma davvero? Tavo così in grado. C'è il privo di, guarda, tu vuoi. Certo, perché è anche un po' strano che viene a dirlo alla cameriera e non a noi. Beh, perché forse faceva la cameriera pure a lei prima, no? Beh, effettivamente potrebbe essere vero, come una specie di, come si dice, solidarietà de categoria. Sorbole! Sorbole, estra sorbole! Eh, lei dagli altri ci dividivano adesso. Eh, in caso Montesi, quattro anni fa, una povera ragazza ha trovato l'uccida sulla spiaggia di Capocotta, con lo sperma mescolato al gelato dello stomaco, uno schifo. E anche là, tutti i politici, gente importante, tutto il sabbiato. Eh, ma loro fanno un sistema qua, eh? Contro a tutti un cante!